Tavolo aspirante e soffiante top di gamma, ideale per lo stiro con punta a destra. Macchina ergonomica, regolabile in altezza. Prestazioni di aspirazione e soffiaggio eccellenti, ideale anche per capi lavati ad acqua. Ampia scelta di accessori esclusivi per la massima personalizzazione. Disponibile anche nella versione con piano a freddo. Assicura la massima efficienza e qualità della finitura. Pony, la migliore soluzione per lo stiro professionale.